Le persone, gli animali, le cose, ma anche le idee, i sentimenti, le azioni. Le parole comunicano tutti gli aspetti della realtà. Parlare e scrivere vuol dire dare forma al mondo. Dire e scrivere è la nuova grammatica per la scuola secondaria di primo grado di Franco Galimberti, docente e formatore. Un approccio visivo alla grammatica. Un profilo fortemente operativo e autovalutativo. Una grande attenzione al lessico. Una grammatica inclusiva e compatta. Un forte lavoro sul testo. Un approccio orientato all'apprendimento cooperativo e alla didattica ludica. Un folto apparato digitale per la DDI. Un grande obiettivo per tutte e per tutti. Parlare. E scrivere bene.